Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione e agli aggiornamenti. Apriamo con un fatto di cronaca. Una donna di 47 anni e la sua bambina di 18 mesi sono rimaste intossicate oggi per il malfunzionamento di un camino che ha preso fuoco. È accaduto nella loro abitazione in provincia di Belluno. Ad accorgersi della fuoriuscita di monossido sono state le squadre dei vigili del fuoco dopo che era stata segnalata la presenza di un forte odore all'interno dell'appartamento. Le due mamma e figlia sono state portate all'ospedale di Feltre e ricoverate in osservazione. L'appartamento al momento è inagibile. I carabinieri stanno svolgendo ancora accertamenti sul ritrovamento del corpo mummificato avvenuto nei giorni scorsi in una casa di Venezia. Era il corpo di un professore che da sette anni era sparito. In realtà era morto dentro casa sua e nessuno si era accorto della sua assenza. Nessuno a quanto pare l'aveva cercato. La verità è emersa grazie ad un ladro che aveva tentato di entrare in quella casa e che lasciando le porte aperte per fuggire di fronte evidentemente a quello che si era trovato davanti aveva fatto scattare le misure di sicurezza. In questi giorni è stata contattata un'anziana sorella della vittima che a causa di dissidi aveva perso i contatti con il fratello dieci anni fa. La donna potrebbe ora ereditare quanto lasciato dall'uomo mentre potrebbero essere sequestrati circa 80 mila euro di pensione che l'Inps in questi anni aveva continuato a versargli. Avevano creato otto siti internet spacciandosi per rivenditori ufficiali dei biglietti per i concerti di Vasco Rossi ingannando i tanti fans del rocker convinti di essere riusciti ad acquistarli. Ora grazie alle indagini della Polizia Postale dell'Emilia Romagna coordinata dal pubblico ministero Venturi i siti sono stati oscurati e sequestrati. Il provvedimento è stato emesso dal GIP Gamberini mentre i due truffatori risultano indagati. Nei guai sono finiti un sessantenne Vicentino e un quarantaduenne Moldavo. Entrambi i residenti nel Padovano sono accusati di sostituzione di persone, contraffazione di marchi, turbata libertà di commercio. Adesso parliamo di cyberbullismo e di bullismo, un argomento dove c'è davvero tantissima attenzione. A Padova si è svolto un incontro molto importante su questo argomento. Per difendere i ragazzi da questo gravissimo problema è importante la conoscenza e la prevenzione. In Italia rimane alta l'attenzione nei confronti di un allarme sociale che sta destando molta preoccupazione. Parliamo di bullismo e cyberbullismo. Negli ultimi anni ci sono state delle tragedie enormi che forse con la conoscenza e la prevenzione potrebbero essere state evitate. Per cercare di osteggiare bullismo e cyberbullismo è importante innanzitutto fornire alle persone una corretta informazione multidisciplinare. Ed è questo lo scopo del convegno organizzato da Quinto Piano, progetto di Euro Interim Servizi Spa, ente di formazione accreditato alla Regione Veneto e società di servizi alle imprese, con il patrocinio del provveditorato agli studi e l'accreditamento dell'Ordine degli Avvocati di Padova, che si è svolto in città. All'incontro erano presenti genitori, insegnanti, avvocati e psicologi. Ha moderato l'incontro il professor Angelo Boccato, docente universitario e psicologo del lavoro. Allora, noi abbiamo, tra le varie attività che rientrano nel nostro oggetto sociale, abbiamo anche l'attività di Quinto Piano. Quinto Piano è un momento di doposcuola rivolto ai ragazzi, dalle scuole elementari fino ai ragazzi universitari. Noi vediamo in queste occasioni, in questi incontri, che non sono solo momenti di trasferimento, di sostegno alla didattica, ma anche momenti motivazionali, anche momenti in cui cerchiamo un attimo di entrare in sintonia con i ragazzi per comprendere anche le loro difficoltà. E vediamo che in qualche caso è necessario trasmettere loro delle informazioni riguardanti appunto la prudenza nell'utilizzo di strumentazione informatica. Sentiamo la dottoressa Eva Pagano, psicoterapeuta esperta di dinamiche relazionali e di gruppo. Allora, diciamo che il bullismo ancora adesso nel 2018 è un grande problema, che ha una grande ricaduta sia a livello individuale, sia delle vittime che dei bulli, che a livello sociale. Ed è importante intervenire prima possibile, diciamo che questa è la prima cosa. I temi che in qualche modo io tratto e affronto sono quelli che iniziano a partire dall'adolescente, nel senso di sviluppo cognitivo neurofisiologico dell'adolescente, che ha un modo di svilupparsi, come già tutti sappiamo, particolare, nel senso che ha dei tempi ben precisi, ben stabiliti. Noi sappiamo che il cervello è diviso in tre strati più o meno, diciamo un piano terra, un primo e un secondo piano. Il piano terra dove c'è il cervello così definito rettiliano, dove sono prevalentemente gli istinti legati alla sopravvivenza, quindi la fame, la sete, la sessualità. C'è il primo piano dove abbiamo soprattutto il mondo emotivo del nostro mondo interno e dopo il mondo emotivo abbiamo l'aspetto invece cognitivo, che è l'ultima parte del cervello a formarsi, che si forma intorno ai 18-21 anni, quindi in tarda età. Cosa cambia questo? Cambia che i ragazzi e gli adolescenti in particolare, dato che non hanno ancora una corteccia cerebrale e quindi un lobo frontale ben strutturato, ben formato, peccano rispetto al controllo degli impulsi. Quindi il funzionamento loro qual è? Prevalentemente quello di cercare la ricerca del piacere immediato, quindi la ricerca della dopamina, il piacere tutto e subito, in qualche modo, e non hanno il controllo degli impulsi, quindi hanno un'aggressività, un'istintività, un'impulsività, perché non hanno la percezione del rischio. Loro sentono di dover fare qualcosa e agiscono. Prosegue lo spazio dedicato all'informazione. Io difendo le mie maestre. È questo lo slogan scelto dai bambini delle scuole nella bufera, che ha travolto migliaia e migliaia di insegnanti in tutta Italia. E con me in studio, questa sera, c'è proprio un'insegnante, Caterina Fantinati, dell'Istituto Comprensivo di Camponogara in provincia di Venezia. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, grazie innanzitutto di essere presente in questa edizione. Vogliamo capire con lei che cosa sta succedendo nel nostro paese. Tanto vi ringrazio per darci voce. Dal 20 dicembre del 2017, la sentenza dell'adunanza plenaria ha rovesciato il parere precedente, ossia ha stabilito che i diplomati magistrali, rimane il valore abilitante del diploma magistrale, ma avrebbero dovuto ricorrere entro il 2007. Ovviamente questo comporta una situazione di instabilità per le insegnanti che si trovano coinvolte in questa vicenda. Parliamo tra l'altro di numeri importanti. Sì. In Veneto sono? Parliamo in Veneto di 890 insegnanti entrati in ruolo dal 2016 ad oggi e oltre 5.000 insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva. Mentre in Italia i numeri sono ben maggiori e si parla di 55.000 persone interessate da questa sentenza. Ecco, parliamo di insegnanti che dalla prossima stagione scolastica potrebbero non avere più il loro posto di lavoro. Certo, la situazione infatti drammatica è proprio questa, perché dal prossimo settembre, nel caso in cui l'adunanza plenaria dovesse avere conferma, dal prossimo settembre la scuola pubblica sarà in buona parte bloccata, perché proprio verranno a mancare i numeri e gli insegnanti che hanno ottenuto il ruolo, superato l'anno di prova dal 2015-2016 ad oggi, e gli insegnanti che attualmente stanno lavorando con contratti a tempo determinato sino al termine delle attività scolastiche. Ecco, in apertura di questo incontro abbiamo detto quella di oggi è stata una giornata caratterizzata da proteste sia in Veneto, quindi in particolare in provincia di Venezia, ma manifestazioni sono svolte anche a Roma. Che cosa ha prodotto questo? Sembra che ci siano delle possibili aperture? Certo, oggi è stata una giornata particolarmente importante, perché per quanto riguarda la riviera, la nostra zona, la zona in cui noi lavoriamo, la riviera del Brenta, abbiamo avuto la solidarietà grandissima dimostrata sia da parte dei genitori che da parte anche di molti colleghi. Mentre a Roma c'è stata una manifestazione molto importante e quanto si è ottenuto dalla manifestazione di oggi è la presentazione di alcune proposte da parte sia del presidente Anief che dell'avvocato Miceli, i quali hanno presentato due proposte principali importanti. La prima è quella di attendere la pronuncia del parere della Cassazione verso la quale sarà presentato un ricorso entro il 31 marzo. E la seconda è quella di presentare il parere dell'ex presidente dell'avvocatura dello Stato, l'avvocato De Luca, il quale ha sempre proposto il mantenimento dei ruoli in atto. Quindi sono due proposte. Ecco, quindi diciamo ci sono delle possibili aperture che fanno quantomeno sperare che la situazione possa cambiare in maniera positiva. La Regione Veneto come si pone di fronte a questa vicenda? La Regione Veneto ad oggi da parte dell'assessore Donazzan abbiamo avuto delle risposte e delle forme di sostegno. Per quanto riguarda i comuni della Regione molti hanno approvato all'unanimità la nostra mozione nei consigli comunali e attendiamo appunto ulteriori notizie positive. Allora, noi la ringraziamo per l'intervento, per il suo intervento questa sera. Naturalmente continueremo a seguire questa posizione davvero delicata. Ringraziamo Caterina Fantinati dell'Istituto Comprensivo di Camponagare in provincia di Venezia. Buon lavoro. Grazie. Naturalmente magari ci incontreremo anche prossimamente. Continuiamo il nostro telegiornale con un altro servizio. A Verona, presso la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia, si è svolto un convegno organizzato dalla Guardia di Finanze e dal Tribunale di Verona, con il patrocinio del Comune, dell'Università degli Studi di Verona, degli ordini professionali dei dottori commercialisti, esperti contabili ed avvocati, nonché di Confindustria. Tematica trainante della giornata è stata la tutela del risparmio alla luce delle recenti novità legislative, intervenute in materia di prevenzione e controllo del settore con uno sguardo particolare sulle scelte dell'investitore e sul suo rapporto con la finanza comportamentale. I lavori di particolare importanza per l'elevato profilo dei relatori e per l'attualità e rilevanza degli argomenti trattati si sono aperti con il saluto del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Verona. Le tematiche affrontate hanno spaziato dalla responsabilità amministrativa degli enti con particolare riferimento agli illeciti bancari e alla finanza etica dal concreto ruolo della Guardia di Finanza quale Polizia Economico-Finanziaria a tutela del risparmio al concetto di economia comportamentale per concludersi con un focus sulle procedure di risanamento e sul fallimento bancario. L'iniziativa ha costituito una preziosa occasione di aggiornamento professionale per i militari impegnati nelle sempre più complesse attività di polizia economico-finanziaria esclusive della Guardia di Finanza e di confronto dialettico per tutti gli attori istituzionali preposti alla tutela della legalità. Continuiamo con altre notizie. Ieri in Tribunale la vicenda dell'infermiere che a Padova avrebbe abusato nel reparto di neurologia dell'azienda ospedaliera di almeno sette pazienti. L'uomo, 43 anni, infermiere, è stato condannato a 12 anni e due mesi di carcere e ha un risarcimento di quasi 4 mila euro nei confronti di una sua vittima anche se questo secondo aspetto dovrà essere confermato e verificato. Era presente in aula, in tribunale, oltre ad aver ammesso le sue responsabilità ha anche chiesto di essere aiutato. Il suo arresto era scattato a gennaio dello scorso anno mentre erano in corso indagini da parte dei carabinieri. Era stato pizzicato mentre tentava di abusare dell'ennesima paziente. La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro preventivo beni per oltre 360 mila euro ad una società idile nell'ambito di un'indagine su irregolarità dei lavori all'impianto fotovoltaico della palestra comunale di 90 Vicentina. Tre le persone che risultano indagate. L'indagine è relativa alla gara di appalto per la realizzazione della palestra comunale di 90. Sarebbero emerse delle irregolarità. E adesso l'appuntamento con l'approfondimento dedicato alla storia. Allora sentiamo subito cosa ci racconta in questa edizione l'esperta Marisa Sottovia. Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo di Giacomo Casanova in quanto è stato ritrovato un manoscritto di quando era bambino e verrà presentato questo documento tra poco, esattamente il 2 aprile. È un documento che è stato sottoposto a perizia grafologica giusto per accertare l'autenticità. E allora conosciamo Giacomo Casanova che nacque a Venezia il 2 aprile 1725. Veniva da una famiglia di attori. Infatti il papà appunto era impegnato in questa arte ma anche la mamma un'attrice che per motivi di lavoro viaggiava tantissimo e Giacomo fu affidato alla nonna che appunto provvede all'educazione. A nove anni è stato mandato a Padova a studiare dall'abate Antonio Gozzi successivamente poi si iscrive alla facoltà, all'università, alla facoltà di diritto, si laurea e trova anche impiego in uno studio legale. Però resiste poco, non è il suo ambiente. Nel frattempo perde la nonna ed è un colpo durissimo per Casanova in quanto era legatissimo. Lui ha un carattere turbolento, irrequieto, è affascinato dalle arti magiche che lo accompagneranno per tutta la vita. Tenta anche la carriera militare ed ecclesiastica ma non fanno per lui. Viaggia moltissimo e quindi arriva anche a Parigi. Qui frequenta personaggi illustri, donne facoltose e inoltre aderì alla massoneria. Dicevamo viaggia moltissimo, va a Dresda, Praga e Vienna. Ritorna a Venezia. Ritorna a Venezia ed è arrestato in quanto è accusato di libertinaggio perché frequentava donne sposate e poi ancora di offese, di mancato rispetto della santa religione in quanto aveva una relazione con delle monache. Inoltre perché aderì alla massoneria. Viene condannato e imprigionato. Da qui inizia la fuga. Quella fuga che assieme a un compagno di cella, l'abate Marino Balbi, fu fatto un foro nel soffitto della cella, si calarono all'interno del palazzo, passò un viaggiatore che così rimase un po' sorpreso dalla presenza dei due nel cortile che forse aveva inteso come fossero intrappolati. Chiama la guardia, si apre i cancelli e quindi scappano e quindi Casanova è libero. Ritorna a Parigi, qui frequenta una marchesa molto facoltosa che le promette eterna bellezza ed eterna giovinezza in base appunto alle arti magiche. Sarà cacciato dalla famiglia stessa della marchesa. ritorna a Venezia, ma Venezia viene espulso sempre per cattiva condotta, per una condotta immorale. Si occupa, raggiunge la Bohemia e qui si occupa come bibliotecario. Da questo momento incomincia a scrivere il libro La storia della mia vita e la storia della fuga, la storia che è la fuga dei piombi, dove descrive appunto quello che è stato il periodo della carcerazione e la fuga di per se stessa. Muore in questa cittadina della Bohemia nel 1798 a 73 anni. Chi è stato Casanova? Beh, un personaggio molto discusso, appunto, però aveva delle qualità eccezionali per intellettive e per l'oratoria e inoltre seppe sfruttare queste qualità nelle corti europee. Riuscì a farsi ricevere alla corte di Federico il Grande, re di Prussia e di Caterina II di Russia. Casanova però, dicevamo, ha viaggiato moltissimo, però rimase sempre profondamente veneziano e quindi sempre legato alla sua terra. Quindi aspettiamo il prossimo 2 aprile per vedere un po' il contenuto di questo particolare manoscritto di Casanova. Grazie a Marisa Sottovia, vi ricordo l'approfondimento con la storia ogni fine settimana. Continuiamo con altre notizie di Cronaca. Due giovani proprietari di un bar del centro di Verona sono stati arrestati per spaccio. Ai clienti non servivano solo bevande, ma c'era chi andava in quel locale per comprare cocaina. La sostanza è stata trovata sotto il registratore di cassa già pronta per lo smercio. I due giovani, 31 e 29 anni, sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana. E un altro arresto per droga è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Venezia nel parco albanese di Mestre. arrestato un uomo originario della Gambia individuato da una pattuglia dei Baschi Verdi in servizio serale e in servizio di repressione mentre si aggirava con fare sospetto in zona parco. Alla vista dei militari, il giovane si è dato alla fuga. In seguito dai finanzieri è stato raggiunto e bloccato mentre l'unità cinofila antidroga di supporto ha iniziato la perlustrazione dell'area trovando due involucri di cielo fan che il soggetto aveva gettato tentando di disfarsene. C'erano complessivamente quasi 50 grammi di marijuana. Ricordiamo prima di dare un'occhiata al tempo per la giornata di domani che nella notte tra il 24 e il 25 marzo cioè la notte tra sabato e domenica ci sarà il cambio dell'ora. Dunque la notte, ricordiamo, tra sabato e domenica si dovranno spostare le lancette avanti di un'ora. Il cambio orario è stato previsto alle due, quindi alle due lancette in avanti alle tre. Ed ora uno sguardo alle condizioni previste sul Veneto per domani. Sulle Dolomiti il tempo sarà ben soleggiato, altrove annuvolamenti, specie a ridosso dei rilievi alpini. Si alterneranno a schiarite più ampie in pianura. Siamo arrivati al termine di questa edizione, rimanete con noi perché prima dell'opinione ci sarà uno spazio di approfondimento su un appuntamento che si è svolto in questi giorni. a chi è svolto